Ciao raga, bentrovati sul mio canale youtube, scusatemi se questo video non è uscito ieri ma era una giornata di festeggiamenti, infatti la mia ragazza si è laureata, off topic, quindi non sono riuscito a farvi uscire il video analisi sui foot birthday al solito orario, esce con qualche ora di ritardo per questo team 1. Team 1 per il quale onestamente non nutro profondi apprezzamenti, una promo che per quanto riguarda questa prima squadra secondo me si è rivelata piuttosto fallimentare perché se io il 27 marzo devo ritrovarmi qui ad esultare per ritrovarmi un perisic foot birthday oppure un mendile ennesimo terzino insomma vuol dire che qualcosina non sta funzionando propriamente. Comunque qualche carta interessante c'è, qualcun'altra meno, andiamoceli a guardare sperando che il secondo team in realtà ci cieli qualche botto no? Ci aspettavamo Neymar, qualcosina un po' di goloso invece, niente di che. Quindi senza perdere troppo tempo passiamo subito sulla schermata dove ci attendono i primi giocatorini e per primi giocatorini intendo il buon Tiago Alcantara. Una carta che voi la vedete cavolo, questo è 92, ha 82 di velocità, 83 di tiro, 91 di passaggio, 94 di dirbing, 83 di difesa e 78 di fisica. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché? Vabbè che ha 5-5 quindi è stato boostato sotto questo punto di vista ma non ci servono i Neymar a centrocampo. Ha 95 di accelerazione e 71 di velocità scatto. Questo cosa vuol dire? Che sul primo passo magari prende un determinata porzione di campo, poi sull'allungo fa ciao ciao perché voi state sul T-Max e lui sta sulla Pekar. Quindi in mezzo al campo risente sicuramente di questo fattore, non è così incisivo nell'andarsi a recuperare e attaccare gli avversari. Poi per carità, statistiche di tiro che non sono neanche malvagie, quindi magari il CC in un 4-3-1-2, in un rombo lo può anche fare. I passaggi sono tanta tanta roba. Di agilità, dribbling eccetera eccetera, sono tutti quanti parametri al top. Statistiche difensive discrete con quell'80 di mentalità difensiva che fa il suo e poi ha 91 di stamina, 68 di aggressività e 75 di forza. Per usarlo diciamo in mezzo al campo come randaggio cagnaccio, quel 68 di aggressività un po' per me si fa sentire così come si fa sentire, vi ripeto la velocità. Quindi, piccolo punto di domanda sul buon Tiago, che però potrebbe essere utilizzato magari da C e C, dove non serve questa gran velocità. Se gli mettete le mani avanti, giusto per innescare le due punte, ve lo potete provare a inventare, visto che comunque c'ha dei gran gran passaggi. Però parliamo di un giocatore che costa 700k su play, 650k su xbox, ha statistiche da top player, ma secondo me non ha un rendimento da top player. Quindi il buon Tiago, insomma, diciamo che gli diamo un 6 giusto per... di stima, ecco. Prossimo giocatorino è il buon Lucas Moura, anche quest'anno ci ritroviamo alla solita versione speciale di Lucas Moura, 5 di skill e 4 di piede debole, quindi adesso hanno dato la quinta di skill. E parliamo di un giocatore che costa 1.03.000 su PS e 1.000.000 su xbox. Veloce, perché chiaramente è veloce, finalizzazione e potenza tiro discrete. Ha chiaramente quelli che sono ottimi passaggi, sia il corto che il lungo, agile, è molto molto agile, 97 di agilità, 96 di equilibrio, 85 di reattività, 86 di freddezza. Ha anche una buona stamina con 84, 1.74, quindi non si appesantisce, visto che ha anche 65 di forza, un bel body type di quelli che piace a noi unico, quindi Lucas ha solo lui questo tipo di body type. Ma amici miei, parliamo di un giocatore di 1.04.000.000, Neymar costa 600k e con Neymar ci potete fare tutto, perché 5.5 può fare la prima e la seconda punta, può fare l'esterno, può fare il C.O.C. Questo per carità può fare quello che vi pare, può fare il C.O.C. perché ha la quinta skill e ha buoni passaggi, può fare l'esterno, la finalizzazione e la potenza tiro un po' mi preoccupano, quindi non so se l'utilizzerai da seconda punta. Quindi sicuramente è una buona carta, ma secondo me overprezzata sotto questo punto di vista. Lirua Sané, il King Sané, 4 di skill, 5 di pede debole, quindi risolto, diciamo, quello che è il più grande problema del buon Sané. 1.03.000 su PS e 1.000.000 su Xbox, ci tengo a soffermarmi sui prezzi, raga, di queste carte, perché insomma siamo in un periodo del gioco in cui i top oro costano relativamente poco e probabilmente sono anche superiori a queste carte estremamente bustate. 1.83 di giocatore, veloce e molto veloce, potenza tiro 92 e finalizzazione 86, abbiamo poi un ottimo passaggio corto, un lungo che è molto da rivedere, ottimi parametri di agilità, con 91, 84 di equilibrio, 86 di reattività, 86 di stamina, 75 di forza. Sané è un giocatore notoriamente, diciamo, non propriamente agile, perché appunto, vi ripeto, è 1.83, ha anche 75 di forza, quindi non vi aspettate che vi si giri come Lucas, ecco, sotto questo punto di vista. È una carta sicuramente molto molto carina, può fare tranquillamente l'esterno, può fare tranquillamente la seconda punta, può fare anche volendo la prima punta, se lo volete provare. Tuttavia, non lo utilizzerei da C.O.C. per il semplice motivo che quel passaggio lungo 68 in un gioco basato sui filtranti mi preoccupa al livello, quindi eviterei, lo tendrei a utilizzare in quegli altri ruoli lì, pur comunque tenendo presente che il prezzo è abbastanza alto, tutte ste carte sono belle gaipate. Abbiamo Jamie Vardy, il muratore, un milione su PS, 950k su Xbox, 4 di skill e 5 di piede debole, quindi anche lui risolve, diciamo, quello che è il problema più grave che aveva. 1,79 per 73 di forza e 80 di agilità, quindi questo tronco era e tronco rimane, per carità, poi è veloce, ha un'ottima potenza tiro e finalizzazione, passaggi totalmente osceni, 94 di freddezza, 93 di aggressività, eccetera, eccetera. Questo io onestamente non lo utilizzerei da punta, lo metterei magari a piottare in fascia se ve lo ritrovate, ma non lo andrei ad acquistare, visto che comunque anche in fascia con questi passaggi qua è più deleterio che altro, quindi diciamo bocciato Vardy, anche che ha un prezzo totalmente no sense e fuori da ogni logica. Lukas Podolski, una SBC, parliamo di un giocatore che si trova attualmente in Turchia, 5 di skill e 3 di piede debole, quindi già qua 1,82 di cristiano con 92 di forza e 81 di agilità, penso che ci siamo detti già abbastanza, poi per carità è veloce, per carità ha un'ottima potenza tiro e finalizzazione, ha anche degli ottimi passaggi, ma questo è un pezzo di legno, massello, che per muoverlo avete bisogno della gru, lo prendete e lo traslate, lui non può muoversi, si trasla nello spazio il buon Lukas Podolski, parliamo poi di un giocatore che ha 200k di costo su PS, 180 su Xbox, insomma, mi sembra abbastanza inutilizzabile il buon Lukas, un salutone che ha pure sta faccia un po' ammiccante. Ivan Perisic, 5 di skill e mi immagino 5 di piede debole, infatti 400k su PS e 300 su Xbox, veloce veloce, ha una buona potenza tiro e finalizzazione, ha anche dei buoni passaggi, ha 84 di agilità e 82 di forza, 1,86 di crustiano con un body tie pike average, anche qui parliamo di un tronco bello importante, questo forse è più tendente all'abete sotto questo punto di vista, quindi carta che secondo me anche in Serie A non è che trova questo grande spazio, visto che di esterni comunque ormai ce ne sono a Balanga e insomma il buon Perisic non se la prenderà ecco se viene scartato e rimandato al prossimo appello. Klassian Huntler, proprio lui che è un obiettivo, quindi come tutte le carte obiettivo si può anche sbloccare. Per i meme parliamo di un giocatore con 3 di skill e 5 di piede debole, con per carità una discreta velocità, un'ottima potenza tiro e finalizzazione, un passaggio corto interessante o lungo da rivedere, ha anche 90 di forza, quindi anche qui abbiamo fatto un bel trittico di giocatori prettamente inutilizzabili, belli tronchi che veramente solamente in una diga, se siete un castoro possono essere appetibili, quindi anche Huntler a rivederla. A parte che Huntler quanti anni ha, mi scusi? 37 anni ecco, è arrivata ora di lasciare spazio alle nuove leve, Klass. Arriviamo a quello che è il top player assoluto di questo fantastico team, Mendy, l'ennesimo terzino di questo videogame, che per carità ha statistiche molto molto notevoli, parliamo di un 5-5, quindi non vedo l'ora di fare gli elastici in difesa con Mendy, molto veloce, belle statistiche di passaggio, raga, queste fanno tutta la differenza di sto mondo per sto terzino, infatti io non vedo l'ora di agguantarlo e di metterci le mie mani su sto Mendy, ovviamente ottimi parametri di dribbling, ottimi parametri difensivi che ricevono un bel boost, ottimi parametri di fisico con un'ottima aggressività e forza, quindi tanta tanta roba il buon Ferlan Mendy, che veramente è sì il top player, però è l'ennesimo terzino che esce bustato su questo videogioco, oltre che ci terrei a farvi notare come praticamente di anno in anno escano poi sempre le stesse carte, Mendy speciale, Luca speciale, Sanne speciale, penso che è anche ora di rimodernarci un po' sotto questo punto di vista. Inaki Williams, anche lui l'ennesima carta buggata di Stoinaki Williams, 5 di skill e 4 di piede debole, velocissimo, ottima potenza tiro e finalizzazione, passaggio corto bene e lungo un po' così, agilità 86 e forza 89, quindi anche qui parliamo di un tronco bello importante, tuttavia questo qui in fascia messo a cavalcare, visto che c'è anche 5 di skill ce lo vedo molto bene, visto che non lo andrei a mettere né da C-O-C né da prima né da seconda punta, quindi da esterno cavallo selvaggio Williams bene bene bene, anche perché non costa manco tanto e pensavo molto di più. Mario Ermuso, cane secco, 280k su PS, 214 su Xbox, 5 di skill per fare gli elastici a difesa e perdere palla, parliamo di un giocatore che sicuramente è veloce, ha anche degli ottimi passaggi, tanta roba alle statistiche di fisico, tanta roba alle statistiche difensive, 83 di freddezza, 82 anche di agilità, quindi vuol dire che scivola bene con l'L2, 1,84m di giocatore, questo qui è veramente una bella cartina interessante, si va a inserire in quelli che sono un po' i Jimenez, no? Quei giocatori lì, Diego Carlos, anche se secondo me si piazza un gradino sopra Diego Carlos ed è da valutare con Jimenez, forse potrebbe essere anche un pelo meglio di Jimenez, rapporto qualità-prezzo interessante, anche libri d'abilità con un bell'ombra, secondo me Mario Ermuso il suo lo fa più che bene. Poi abbiamo sto Junior Sambia, che anche qui, ennesimo terzino del videogioco, non costa neanche tanto, e ha 5 di skill e 4 di piede debole, quindi tanta roba, ha degli ottimi passaggi, molto veloce, ha un ottimo parametro di agilità, un po' mi lascia perplesso il 75 di aggressività, tanta roba alle statistiche di difensivo, raga, ma questo qualità-prezzo è veramente un bel giocatore, si può usare DC, raga, tutti i terzini potete metterli DC, quindi mo' inutile che ogni volta che esce un terzino, diciamo, se può, sì, tranquillamente lo potete usare il difensore centrale, per carità, se vi va. Comunque questo qua è molto interessante, visto che c'è anche un buon discorso in termini di ibridabilità, devo dire, promosso a pieni voti, anche per quanto riguarda la qualità-prezzo, questa qua potrebbe essere una delle carte più interessanti all'interno di questo primo team. Quest'anno ci ritroviamo l'ennesima carta speciale anche di Moses Simon, che mi sa che ha rotto l'icocomeri un po' a tutti, visto che c'ha 80k di prezzo su PS e 60 su Xbox, 4 di skill, 5 di piede debole, sicuramente veloce, finalizzazione molto da rivedere, passaggi totalmente a pezzi, molto agile, visto che comunque è un 1,68x77 di stamina e di forza, con un body type short e lean, quindi sicuramente è una trottolina che si gira su se stessa. Tuttavia mi preoccupa un po' questo 81 di freddezza, il parametro di finalizzazione è un po' così, sicuramente lo andrei a utilizzare anche lui in fascia da super sub, non da titolare, visto che comunque nigeriano della Ligan è anche un po' difficile da linkare. Ciliegina sulla torta di questo primo team è Wang Yi Chan, per 3 di skill e 5 di piede debole, insomma una carta che anche qua parla già abbastanza per sé, 1,77m di giocatore per 96 di agilità, un body type, power age molto veloce, finalizzazione un po' così, così come la potenza tiro, i passaggi, il corto ok e il lungo, un po' da rivedere anche secondo me l'equilibrio e la reattività, quindi questo qua secondo me a dispetto del 96 di agilità del 1,77 non è propriamente una trottolina, quindi secondo me anche lui da rivedere, non l'andrei a utilizzare sicuramente da punta, viste le 3 di skill, neanche in fascia, quindi questo totalmente bocciato, secondo me visto che anche l'ibridabilità è un pochino ambigua. Quindi, raga, per tirare le somme di questo primo gruppone del footbird, i giocatori interessanti ce ne sono, sicuramente Mendy su tutto, occhio alla Gemma, Sambia, gli altri giocatori forti secondo me sono eccessivamente overprezzati, Cavallo Pazzo e Nagy Williams potrebbe dire tranquillamente la sua, quindi occhio, e nulla per quanto riguarda sta squadra, quindi raga, è tutto, fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti, se vi aspettate di meglio dalla seconda, ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, e nulla, raga, un salutone, un abbraccione al vostro Liberoschi, e alla prossima, bella! Grazie!